Ciao a tutti ragazzi, noi siamo nuovi su Gatch Club, io mi chiamo Unicorno, lei si chiama Foxy e lei Mumu, cioè c'è scritto Mumu, però si chiama Mumu. Noi siamo dei piccoli animali, lei è un unicorno, lei è una volpe e lei è una mucca, spero di essere vostri, spero che noi vogliamo essere vostri amici, perché noi vogliamo bene a tutti. E quindi volete diventare i nostri amici, vi farebbe un sacco piacere, perché se entrate qua, faremo un sacco di avventure insieme. Ma ti prego, se volete diventare amici, ti fa un sacco piacere. Beh, che dire, al prossimo video, ciao!